Oh, hai rotto le balle, eh? Cioè, voglio dire, eh, quanti anni hai? Allora, eh, cioè, non lo so, quanti anni ha, che domande fa? Bisa, va un po' a cuozzo, io l'ho fatto cuocere un po' meno di tre ore perché è live, però, due, o anche due ore, due ore e mezza, dipende. E, però, minimo due orette dovrebbe andare, minimo due orette tutte. Cazzo, è chiuso, ah, ecco, è chiuso. Tu, Gabriele, non li ho mai mangiati con la panatura di Comflex? Allora. Perfetto. Il latte è pronto. Ciao, Mike, tu scuscus? Polo fritto? No, non l'ho mai fatto, polo fritto. L'ho fatto al forno, l'ho fatto in padella, ma fritto non l'ho mai fatto. Allora, facciamo preparare la besciamella. Piastre a 80 e via. Facciamo sciogliere il burro. Sì, ma fanno delle ricette, sì, sì, Atla, ma le fanno delle ricette, eh. Sì, sì, anche salate con i Comflex, sì. Anch'io non li ho mai provate, ma dall'aspetto sembrano imbitanti. È la prima volta che lo fa mia mamma. Va, va. Cosa scrivo di carne trita scelta? Biscottona? Cosa scrivo di carne trita scelta? E poi ci andiamo a mettere il latte, un po' con la volta, come lo metto io di solito che non fa grumi. Uno. E la prima volta si rapprende, eh, raga. La prima volta si rapprende proprio, fa tipo la pallina. Due. Ci serve per scioglierlo. E tre. Adesso ci mettiamo un po' di sale e un po' di nocce moscata e andiamo a girare il tutto. Giorno, Armiglius, come stai? Certo che si fa prima a comprarla, ma è più buona fatta. Anch'io all'inizio usavo quella che avevo in casa. Però farla è tutta un'altra cosa. Bisa, mi hai assaggiato? Quella comprata e quella già pronta, che differenza c'è? Assaggiala. Eh. Cosa c'è scritto sulla lavagna? Cosa sto facendo? La besciamella. Buongiorno, Skinny. Mai assaggiata fatta in casa, purtroppo. Falla o falla a te o digli di provare a farla. È tutta un'altra cosa, è tutto un altro sapore. Sì, non è facile da fare. Buongiorno, Ieraz. In base alle dosi, ne devi fare tanta, ce ne metti mezzo 500 ml di latte. Per cui... Buongiorno, Ieraz. Tutto bene? Dovete stare attenti quando la fate. Ciao, Maleolandia, buongiorno. Come stai, caro? Dovete stare attenti solo a non fare i grumi. Eh. Perché... Potrebbe risultare magari le prime...